Ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai siciliani di una leggera e graduale apertura per le misure adottate, misure restrittive in occasione di questa devastante epidemia. Consentiamo l'attività motoria, la corsetta, purché presso la propria abitazione. Alle persone affette da disabilità consentiamo con l'accompagnatore di poter uscire e fare una breve passeggiata, sempre nei pressi della propria abitazione, la consegna a domicilio dei generi alimentari nei giorni festivi e nelle domeniche, la cura dell'orto, del podere e soprattutto la manutenzione per creare i viali tagliafuoco nelle campagne in vista della stagione degli incendi. Consentiamo agli stabilimenti barneari di potersi organizzare con la manutenzione, con l'allestimento delle cabine, con la pulizia della sabbia, dell'arenile, mentre rimane invariata la ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. Per ora è bene che si vada avanti così. Consentiamo soltanto una corsa in più, da 4 a 5 corse giornaliere, sullo stretto di Messina, per evitare disagi ai pendolari e al personale sanitario, che essenzialmente è quello che in questo momento fa uso dei mezzi di collegamento fra le due sponde. Ecco, un atto di fiducia, dicevo, al popolo siciliano che ha mostrato grande senso di irresponsabilità, tranne qualche sparuta pattuglia di incoscienti, un popolo che ha sorpreso per questa lezione di civismo quanti ancora oggi continuano a considerare noi siciliani con superficialità e con giudizi assai approssimativi. La risposta migliore l'abbiamo data. Grazie.